Bene, questa mattina è la prima volta che abbiamo il piacere di avere qui il maestro Michele Gallo, ti fa piacere venire su un caffè spiritosa maestro, hai visto ci siamo rinnovati e chiaramente stiamo aspettando la nostra cameriera Tu non sai una novità caro maestro, adesso non ci sa più Chiapparillo, abbiamo assunto la moglie di Chiapparillo la campagnola, non la conosci? No, ma sei usato Chiapparillo E adesso ti faccio vedere, voglio approfittare per presentare pure agli amici la nuova cameriera del caffè spiritosao che è la campagnola però chiaramente alla campagnola, se no gli facciamo un po' di sigla, quella non viene vogliamo suonare un po' di campagnola, la facciamo così Fammi a fammi, dobbiamo fare Maestro, mi diamo un po' Ecco qua, ed è la campagnola Campagnola, buongiorno E io ti voglio presentare gli amici di questa mattina al caffè spiritosa, di namoroso Buongiorno, buongiorno Buongiorno signorini Buongiorno E' il maestro, lo vuoi salvare? E' il maestro, lo vuoi salvare? E' il maestro Allora, vuole sentire un altro pezzo della campagnola? No, due anche da due anni Lo devo mandare io per fare gli onori di casa, così Maestro, la campagnola E' il maestro E' il maestro C'è pieno che vi E' il maestro E' il maestro E' il maestro noi dobbiamo far cantare a chi sa cantare che fa cantare? andiamo, 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 andiamo